Buonasera, papazia! Buonasera, ragazzeo! E buonasera, ragazzeo! Grazie! Buonasera, ragazzeo! Buonasera, ragazzeo! Buonasera, ragazzeo! Innamorarsi, innamorarsi di te! Buonasera, ragazzeo! 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 Lui mi vuole conquistare, ho un sorriso sulle labbra, ma tu muovi che è divino, ma il segreto è la mia vita, e con me vorrei mangiare. Allora, vai! Lui mi vuole conquistare, ho un sorriso sulle labbra, ma il segreto è la mia vita, e con me vorrei mangiare, ho un sorriso sulle labbra, ma il segreto è la mia vita, e con me vorrei mangiare. Lui mi vuole conquistare, ho un sorriso sulle labbra, ma il segreto è la mia vita, e con me vorrei mangiare. Abbiamo quindi un'occasione unica, allora, presidente della cooperativa Baglini di Villa Marina e Gatteo Mare Massimo Bondi. Ho visto un attimo, hai visto? Ho visto, effettivamente... Come la canzone? Come la canzone? Come la canzone? Come la canzone? Si, si. Come la canzone? Viva l'Italia, viva Gatteo Mare! Viva! 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 Massimo, dei baglini, un saluto a niente, un saluto dei baglini, è cooperativa. Tu prima hai detto, l'estate sta finendo, non è vero. No, no, no. Noi qui ancora abbiamo il sole, abbiamo tanta gente, e fino al...